Il valore della parola, quella utilizzata in alternativa all'uso della forza, ma anche nel mondo greco. Questo è il tema scelto per l'edizione 2024 del simposio letterario, organizzato dagli studenti e dai docenti del liceo classico Leonardo da Vinci di Molfetta, in occasione della giornata mondiale della lingua e della cultura greca, che ricorre ogni anno nel mese di febbraio. Diventa fondamentale per noi essere presenti e farlo nel modo che conosciamo meglio, cioè coinvolgere quelli che sono i docenti che poi danno anima alla nostra scuola e che durante queste iniziative sono sempre particolarmente presi e coinvolti. Quindi diventa un momento per stare insieme, diventa per noi una modalità per condividere con i ragazzi e con il territorio quello che è l'amore nei confronti del classico, della letteratura classica, in questo caso della lingua greca. Un momento di riflessione per celebrare la lingua geniale che tanta influenza ha avuto nella nostra cultura, arricchito dalle letture a cura del docente di lingua e letteratura greca Damiano De Virgilio e di una studentessa di Quinta. Mi piacerebbe fare una metafora. Secondo me il greco è come una donna indipendente, no? Volendo citare le parole di Fiorella Mannoia, è una farfalla che imbraccia il fucile, perché è una civiltà capace di amare la bellezza, no? Ma anche essere pronta a imbracciare il fucile quando necessario per essere assertiva e non far dimenticare mai a nessuno il bagaglio culturale che riuscite a trasmettere nonostante gli anni, nonostante le guerre, che secondo me è una cosa bellissima.